ciao sono marisa della boutique pigal ad almè vi presentiamo la collezione da cerimonia abbiamo dato quest'anno l'idea del colore soprattutto dedicato alle sorelle alle testimoni e alle damigelli sono abiti stupendi con una vestibilità meravigliosa che rispettano un pochino il corpo di ogni ragazza per chi ha più seno per chi ha la vita molto stretta cercano di valorizzare e soprattutto col colore dare vivacità e splendore al vostro matrimonio vi aspettiamo da pigal dove troverete una vastissima scelta non solo per le damigelli ma anche per chi vuole un abito molto importante quest'anno la tendenza per esempio è l'oro oro e nero abiti con un corpino in pizzo macramé stupendo e la gonna imbroccato oppure l'abito in paillette ma vi aspettiamo in atelier abbiamo tantissimi modelli verso tutte le taglie dalla taglia 38 fino alla taglia 60 anche per le persone un pochino più morbide di seno e di fianco abbiamo una vestibilità perfetta per accontentare tutte le mamme le zii e le sorelle che vogliono essere bellissime al vostro matrimonio , , , , , , , . ,